È una corsa contro il tempo ma ciò che ormai è certo è che entro domani mattina, quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico, alcune classi si ritroveranno in aule provvisorie. Provisorie fino a quando una serie di interventi previsti non verranno ultimati. Con un costante aumento degli iscritti al liceo scientifico Marconi, vige la problematica di trovare, di anno in anno, nuove aule dove poter accogliere gli alunni. Ne servivano almeno otto. Due di queste sono state ricavate dalla zona del piano terra, altre tre dallo smantellamento del bar, vista la scadenza del contratto senza rinnovo per gli ormai ex gestori, e altre quattro nella zona esterna dell'edificio grazie all'utilizzo di un prefabbricato. Le aule ricavate dal bar però non sono pronte sin da subito. Gli studenti delle tre sezioni infatti potranno varcare la porta della loro nuova classe solamente dai primi di ottobre, accontentandosi per ora di seguire le lezioni all'interno dei laboratori. Facendo la somma complessiva, le aule sarebbero una in più che però sarebbe utilizzata dal Bramante Genga per coprire una necessità di posti. Istituto tecnico Bramante Genga che si trova anche di fronte a dei lavori di ristrutturazione interna per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei tetti di sei aule danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio. Un intervento che avrà inizio nelle prossime settimane per una durata di circa sei mesi e un costo che si aggira tra i 180 e i 200 mila euro. Nel frattempo però sono stati condotti dei sopralluoghi che certificano la tenuta e la sicurezza della struttura. Non solo il Marconi e il Bramante Genga a rappresentare qualche disturbo tra studenti addetti ai lavori, ma anche l'ex Morselli e il liceo Mamiani. Lo spostamento del liceo classico nella nuova sede di Viale 11 Febbraio e il collocamento del liceo Scienze Umane nell'edificio di Viale Gramsci ha destato diverse polemiche sfociate poi in una raccolta firma di oltre un centinaio di alunni. Attraverso questa petizione è stato chiesto al dirigente scolastico Lisotti di confermare la disposizione dell'anno scolastico precedente che però dal canto suo il preside del liceo Mamiani ha risposto motivando la decisione. È stata una scelta dettata dal maggior numero di iscritti al liceo di Scienze Umane e alcune classi più numerose rispetto a quelle del liceo classico e l'edificio scolastico dell'ex Morselli non poteva soddisfare queste esigenze. Altre esigenze erano quelle degli insegnanti che lo scorso anno con la vecchia organizzazione di aule erano circa 40 coloro che dovevano spostarsi da un plesso all'altro. Con questa nuova opzione l'impasse sarebbe per soli 4-5 professori. Altro cavillo rappresentato dall'assenza di tre aule necessarie per l'istituto Agrario Cecchi che però a detta della provincia saranno rese disponibili in tempi brevi.